musica alcuni non sono morti alcuni sono solo agorizzanti solo adesso abbiamo la vita però si ok ehm ah cavolo c'è su tre ma poi arrivano i rinforzi pian piano allora quindi dobbiamo muoverci in fretta tu qua tu qua tu qua mettiti qua che sei riparato no è scivolato porca miseria vai qua tu ancora lo avete no ma non ci serve vai no me l'ha stunnato ok potrei prendermi da dietro per il futuro non l'ha fatto no mi sa che non riuscivo a tirare giù i per i tre in un solo giro allora direi che io vado qua e gli faccio un bel cavolo è super resistente sto qua mica come prima allora tu neffia vai qua e pizzicalo ok tu riesci per caso a abbatterlo speriamo 72% l'ha sparato via allora tu 73% su questo molto bene ma vaffanbrodo ma questo è sempre con l'arco? no ha le asce allora però io le muoverei di qua ho già addosso e va addosso eh così non ha cover non ha niente spazio per il passarturo si dirò ho stunnato ma basta non è che puoi stunnarmi sempre devoralizza va bene ma tanto se vi tiravo giù è meglio allora eh tu neffia tira giù questo se puoi no assorbito porca miseria allora tu vai qua e provo a tirarlo giù dai per piacere ancora no? oh guardate che dobbiamo fare in fretta non so cosa pensate che siamo qua a fare ma come sono 23% di chance per colpire? muoviti qua allora sono 35% ma cosa ma siamo fuori di testa cosa ecco qua eeeh andiamo con questo who can slash no ok perché non perché non oh allora tu vai qua in un turno arrivano porca miseria spero non già questo turno ecco lì infatti porca pupazza eh eh te pareva che fregatura incredibile allora allora quello è su due fianchi e non ci piace per nulla per cui direi che andiamo qua qua ad attaccare quella tu arcieri riesci a tirare? no adesso c'è questo in mezzo ai piedi porca pupazza allora tu arcieri vieni qua vieni qua vedo se riuscivo a fare qualcosa di buono 15 ma come qui? porca miseria ma qui c'è niente ok per fortuna per fortuna la mia notizia non è circondata ho qualche 17% 23 e ho sul 23 dai niente si è arrivato a posto lo scudo ma il problema sono questi tre qua adesso ahhh mi ha stunnato l'altro mi ha demoralizzato che fregatura di attacco va a finire che ci vorremmo tutti qua eh sapete? ma critical hit ma se lo fai sullo scudo in due turni si è spacciati eh che fastidio quando si falliscono tutti gli attacchi uno dopo l'altro a caso non è una bella frecciumba in faccia oh attacca questo che non sa che cosa fare ok e tu oh muovi qua non riesco a tirare giù tutti questo turno ne arriveranno altri tre o quattro o quattro basta cioè questo è qui dall'inizio dei tempi ce la fai? ancora ancora basta nulla stiamo sprecando tutte le forze contro un cavolo di imbecille sti scavolo di scudi sono un rompimento incredibile di niente oh adesso è al 6 contro 3 quanto è? porca miseria nulla qua perdiamo di brutto solo per quel cavo di tizio con lo scudo che fastidio dai 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 te pareva? allora abbiamo fatto tutto il possibile per tirare giù sti cavolo di tizi e niente oh finalmente ci voleva tutto sto tempo ah riesci a tirarmene giù uno per piacere sti arcieri del manga riesci a fargli del danno? come 35%? ma ce l'hai in faccia allora senti facciamo un ranging shot qua 60 35 si andiamo su 60 ci proviamo almeno ok almeno quello riuscivo a tirarlo giù? no 46 33 ma non capisco perchè i nostri arcieri abbiano una precisione così inutile nefi essere andata via per sempre nefi essere andata via per sempre però cosa cavolo posso fare? qua siamo oh completamente via di testa eh tiriamo giù questo lanciamo una roccia qua proviamo no tu hai delle abilità? 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 hai spot traps oppure quello per lo spotted niente rimangono in 4 ma io siamo in 3 praticamente no in 2 perchè gli arcieri non fanno danno no 3 si aiaaa il danno incredibile della miseria se gli facciamo orecchie se riuscivo a tirarlo giù? no mi sa e invece si ottimo allora ogni tanto ci va di lusso cosa faccio? eh attacchiamo questo ma non gli fa danno com'è possibile che non gli faccio danno? ah perchè meno vita più gli fa faccio danno se faccio così no non posso farlo non ho capito bene questo come funziona eeeh aspetta proviamo lui cos'è questo? stun allora andiamo qua e stuniamo quello dai ah già è vero flanked ottimo anche molto buono che sia flanked adesso è anche stunnato è flanked è tutto ok tirarlo giù non lo tiravo giù però almeno è stunnato posso... no non faccio danno non faccio un cavolo di danno vai su questo ah boh via volarcele qua almeno che così non debbano tirarmi giù quel cioè me lo tirano giù lo stesso probabilmente ma... eeeh questo non lo vedo vero? mh nulla ma... ah tutti demoralizzati au riesci? no ce la fai? oh teo grazia vai su questo 52% ma come ha fatto a mancarla? ah già l'attacco d'opportunità perchè facevo un tiro con l'arco da in faccia eh proviamo nel critico aspettiamo per sotto ah no aspetta facciamo così ha già usato l'attacco d'opportunità no? dovrebbe è che non volevo metterlo troppo in mezzo la roccia? possiamo provare? c'è la roccia c'è la roccia una mancata speriamo che questo sopravviva ok mi hanno attaccato l'altro già abbiamo perso nefia ma tantissimo tempo fa per cui mi sa che nefia prenderà dei danni incredibili da questa battaglia tanto penso che avrò tagliato il video in due a questo punto perchè è una vita che no cosa vai? no non volevo te no te l'ho detto dirò volevo lui ok quando ci scopete dove non riuscivo a tirarlo giù perchè gli arcieri mancano tutto il mancabile visto? uno tu già fai almeno? oh porco i sei ci sono inutili sti arcieri eh eh vittorio ma nefia come sta? eh una lacerazione severa alla testa ok la battaglia sembra terminata solo con Tedduck si è arrivato qua in tempo erano tosti molto equipaggiati non solo uno era il primo villaggio che hanno attaccato ah oh per fortuna solo con Tedduck si è ancora vivo eh il leader dei razziatori sta andando verso la tua la long house eh si è intruffolato attraverso un gruppo intorno al villaggio ed è entrato da est oh porca miseria qui dobbiamo andare anche a occuparci di quello eh ma direi è il prossimo episodio a sto punto perché già è durato due episodi questo e il scusatemi posso saccheggiare questo? oh mi fa saccheggiare quest'uomo no eh oh manca del miele oh ci sono delle casse qua posso offrire queste casse? sono vuote allora direi save game qua ten e ci vediamo nel prossimo episodio vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi se per caso non è stato già fatto e ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti buona giornata